Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Paolo Belvederezi di Zegos e in collaborazione con iBroker. Anche oggi abbiamo come ospite Gianluca Beccaria che mi affianca in questo commento ai mercati, è un aiuto sicuramente di valore, persona che stimo e che è un piacere avere anche oggi a questo appuntamento. Oggi devo dire che ci sono un po' di cose da dire, io vorrei fare un recap interessante per poter effettivamente guardare al futuro. Il recap è necessario per poter inquadrare la situazione e fare il punto. Allora, qualche settimana fa, probabilmente uno dei primi interventi che ho fatto in questa sede, avevo descritto le tre fasi andando ad evidenziare quali erano i quei settori che avrebbero potuto beneficiare nella fase 1, nella fase 2 e nella fase 3. Avevo indicato che nella fase 1 sarebbero saliti o avrebbero sovraperformato il settore degli Utilities, dei Pharma, dei Food and Beverage, dei Personal Goods e dei Telecom e in parte anche dei Tech. E avevo evidenziato come nella fase 1, quindi fase del sell-off, fase in cui i mercati scontavano un forte rallentamento macro e così via, i titoli da evitare erano quelli dei Basic Resources, delle banche, dei Travel and Leisure, quindi compagnia aerea, aeroporti, società del turismo, ristoranti, eccetera, auto e settore oil. Questi erano i settori da evitare. E poi piano piano è partita la fase 2. Nella fase 2 avevo appunto indicato di acquistare i Tech, gli Industrials, i Retailers, i Construction e sempre i titoli Healthcare. Retailers in particolar modo, quindi società che si occupano del commercio, ma anche quelle che lavorano nel settore dei supermercati, gli Industriali e nel settore delle Costruzioni. Proprio quei settori che piano piano sono ripartiti. Cosa interessante è che mano a mano che ci si avvicina sempre di più ad una fase 3, in cui caratterizzata dalla riapertura un po' di tutto, e mano a mano che ci si riavvicina alla normalità, ebbene il mercato inizia a guardare quei titoli laggard, cioè quei titoli che avevano sottoformato in modo particolare nel corso degli ultimi mesi, e quindi mi riferisco ai titoli Basic Resources, banche, travel leisure, auto e oil. Attenzione che non sono tutti sinonimi, nel senso che non si muoveranno tutti allo stesso modo questi settori. Quello che è accaduto, e ieri abbiamo assistito ad una fortissima rotazione, è che ieri il mercato ha incominciato la rotazione a favore di questi titoli, e in particolar modo a favore del settore oil, del settore Basic Resources, e del settore auto. Lasciamo per adesso indietro banche e travel leisure, anche se le banche poi ieri sono salite. Quali i motivi di questo? Ovviamente un progressivo ritorno alla fase 3, e quindi alla normalità, premia i titoli che potrebbero beneficiare subito di un ritorno alla normalità, e quindi, o in modo più immediato, quindi il settore Basic Resources, il settore oil, e in parte il settore auto. Quindi questi tre settori sono quelli da guardare come prossimi settori da comprare, se effettivamente si ritorna alla fase 3. e precisamente nell'ordine, il settore oil è quello con maggiore forza, perché? Perché effettivamente la situazione sul mercato del petrolio, inteso come commodity, sta migliorando notevolmente. Sta migliorando sul lato della domanda, proprio a causa della progressiva riapertura dell'attività produttiva. Sta migliorando tantissimo sul lato dell'offerta, perché effettivamente i dati recenti, settimanali, sulle trivelle attive prodotti da Baker Hughes, evidenziano un calo importantissimo, drammatico, della produzione. E questo ha riportato l'equilibrio e quello che ha spinto il petrolio a 33 dollari al barile, a cui quota adesso. Questa spinta del petrolio si tradurrà ben presto in un'ulteriore forza dei titoli del settore petrolifero, su cui noi di Zegos siamo particolarmente bullish, in un'ottica di 1-2 anni. Altri titoli da guardare, sempre in ordine temporale, sono i titoli del settore basic resources e i titoli del settore auto. Proprio in questo ordine temporale, mano a mano che ci avviciniamo ad una fase 3, quanto più questa si consolida, tanto più questi titoli avranno interesse da parte degli investitori. E poi c'è la fase, chiamiamola 3+, o la fase 4. La fase 4 è quella proprio del ritorno totale alla normalità. Questo ritorno totale alla normalità si verificherà solo dopo il vaccino. E la notizia di ieri, che effettivamente Moderna è riuscita ad avere degli esiti positivi, dei primi test sui primi campioni, sulle prime cavie umane di questa fase 1 del test. E effettivamente si è notato che uno, questo vaccino, effettivamente riesce a ricostruire un sistema immunitario molto forte, capace di sconfiggere quindi il virus. In secondo luogo, gli effetti collaterali sono veramente poco significativi. Si parla di massimo, nei casi peggiori, di massimo 24 ore di mal di testa e spossatezza, diciamo così. Quindi sembra veramente funzionare. E sembra che ci siano possibilità che prima della fine dell'anno questo vaccino possa essere introdotto. E allora su questo chiamo una riflessione. Se effettivamente fosse così, se tutto andasse molto bene, noi potremmo ritornare alla normalità prima di Natale. Ritornare alla normalità totale vuol dire avere un vaccino che incomincia a girare e comincia ad essere effettivamente distribuito con effetti importanti sulla libertà delle persone e sull'attività produttiva. E allora qua noi potremmo avere un ritorno all'interesse forte e dico forte nel senso potremmo assistere a dei rimbalzi molto importanti del settore travel and leisure. Quindi compagnie aeree, quindi compagnie dello shipping di crociere, compagnie, società che si occupano della ristorazione e dei servizi ad essi collegati, società che si occupano dell'intrattenimento, divertimento, basti pensare appunto a Walt Disney e a titoli simili. Sappiamo che i mercati si muovono in modo molto ma molto veloce e tendono sempre ad anticipare. Mi viene da dire che se queste sono le tempistiche di cui ho parlato e venissero confermate potrebbe risultare paradossalmente quasi già tardi. cioè sarebbe veramente già ora di comprare i titoli travel and leisure. A titolo di scommessa si potrebbero comprare. Ovviamente parlo di scommessa perché non si sa ancora non si ha la certezza di un ritorno alla fase 3+, cioè dell'effettiva introduzione di questo vaccino. Ma se questo fosse lo scenario ebbene noi potremmo effettivamente assistere ad un rimbalzo importante di questo. anche perché sul fronte del sul piano politico sembra che ci sia ci siano delle novità. Io chiedo a Gianluca di aggiornarci sulle novità sul fronte politico europeo che potrebbero effettivamente dare un ulteriore boost ai mercati europei. Gianluca, aiutaci un attimo. Beh, innanzitutto grazie Paolo e sono assolutamente d'accordo su tutto il tuo quadro macro. Beh, devo dire che ieri in un clima assolutamente positivo ad un certo punto della giornata è uscita questa indiscrezione da Bloomberg che ci sarebbe stata una conferenza congiunta da parte di Germania e Francia che ricordiamo sono i due paesi più importanti anche dal punto di vista dimensionale dell'Europa un po' i paesi considerati più core dove è stato quantomeno definito tra di loro e sappiamo quanto può voler dire un piano che viene messo sul tavolo congiuntamente da Francia e Germania in cui si parla di un recovery fund da 500 billion dove c'è un passaggio secondo me clamoroso dove dice i 500 billion saranno messi a disposizione dei paesi più in difficoltà ma il rimborso non spetterà ai paesi a cui verranno dati i denari quindi non è un prestito ma a tutti i paesi membri questo chiamiamolo più o meno velatamente è un euro bond è un corona bond ed è stato fatto anche un passo una dichiarazione per la quale si dice che se questo dovesse comportare un cambio dei trattati ci si metterà al tavolo per fare il cambio dei trattati ma ti devo dire la verità un fulmine ma questo in caso un bel fulmine al ciel sereno all'interno di una giornata perché tutto ciò che ormai sembrava un po' nel dimenticatoio è stato riproposto con una forza clamorosa è vero che non sarà assolutamente in discesa perché alcuni stati tra cui l'Austria ieri si sono espresse di fronte al fatto che un conto è creare un prestito e quindi il paese che li riceve deve comunque restituirli e quindi grava sul suo bilancio diretto ma parlare di posso usare Paolo questo termine di una mutualizzazione del debito o quantomeno di un debito comune dove il ricevente non è colui che poi direttamente deve restituire il debito beh è una novità che se per caso dovesse andare in porto potrebbe davvero invertire la rotta e portare un buy grosso come una casa sull'Europa questo è un particolare perché dici un buy grosso come una casa quali potrebbero essere secondo te gli effetti sul rischio sulla percezione del rischio Europa da parte dei mercati beh innanzitutto tutti i paesi considerati non so se si chiamano ancora semi periferici che ormai è un nome vintage naturalmente si toglierebbero un po' di polvere dalle spalle perché ormai si parlava in maniera molto molto forte da qualche settimana che il debito che dovevano fare questi paesi per uscire dal tema coronavirus potesse essere un debito che li portava a una insostenibilità perché sull'Italia si parlava di passare da 135 a 160 a 170 di debito PIL e tutti i paesi semi periferici già deboli caricarsi di 20 25 punti di debito sul PIL era un fardello estremamente importante pensare che ci possa essere una forma di mutualizzazione o di non appesantimento del debito secondo me potrebbe voler dire per questi paesi uscire da una spirale o quantomeno non affaticare una spirale già abbastanza appesantita quindi compiamo tutti i BTP? Diciamo che tutto il debito dei paesi semi periferici potrebbe essere riprezzato in una maniera anche non banale infatti il mercato tra ieri e oggi ha già fatto un movimento importante sulle dichiarazioni tra l'altro parlavamo prima Paolo concedimi questa piccola divagazione che capita in un momento in cui l'Italia ha lanciato questa famosa tranche di BTP Italia e siccome le condizioni sono fisse per un titolo in collocamento mentre il resto del mercato è variabile inizia a aprirsi un trade relativo tra BTP Italia e ciò che c'è sul mercato non assolutamente banale ce lo spieghi in parole semplici perché sicuramente è un po' tecnica la cosa sì assolutamente allora il nuovo BTP Italia come i BTP anche vecchi ha un flusso cedolare composto da due parti una fissa e una variabile indicizzata all'inflazione per la parte fissa è stata comunicata la cedola quindi minima garantita venerdì che è dell'1 40% più c'è la componente legata all'inflazione che oggi è a un livello misero vicino allo zero ma che negli anni può essere un valore faccio un esempio stupidissimo la media degli ultimi 5 anni dell'inflazione italiana di questo valore è stato circa lo 0,5 all'anno un 2,5 cumulato negli anni al di là di fare una proxy può essere molto bassa alcuni anni più alta altri in più c'è un bonus di detenzione chiamiamolo premio fedeltà come molti dicono per cui chi compra questo BTP che ricordiamo il primo BTP Italia con durata 5 anni ha un bonus raddoppiato rispetto ai BTP precedenti cioè se lo porti fino alla scadenza ti verrà riconosciuto un bonus dello 0,80 anziché 0,40 però fammi fare un'ulteriore specifica un conto era lo 0,40 vecchio su un BTP di 8 anni un conto è lo 0,80 su un BTP di 5 quindi se vogliamo fare il calcolo proprio un po' della massaia stiamo parlando di 0,16 all'anno di rendimento extra per chi lo porta alla scadenza ma quel movimento che dicevi tu sui BTP che da ieri mattina lo commentavamo nel market briefing con Davide ha fatto è passato da 1,42 a un rendimento attuale che è tra l'1,18 e l'1,20 in questo momento quindi cosa significa che già il mercato ti sta regalando con il nuovo BTP Italia facciamola semplice la differenza di rendimento tra l'1,20 che c'è su un BTP 5 anni classico sul mercato e l'1,40 che ti darà questo per usare un paragone uniforme quindi uno 0,20 all'anno 0,20 all'anno per 5 anni fatto di nuovo un po' grossolanamente faccio circa un punto quindi il BTP Italia se venissero confermate le condizioni quando andrà sul mercato perché le condizioni sono queste come posso dire la gamba di quello in collocamento non cambia può cambiare il rendimento di quello sul secondario ma se uscisse oggi sul mercato c'è un extra rendimento minimo più c'è l'inflazione che è una componente regalata e incerta mai regalata e più c'è il bonus fedeltà apre un gap di rendimento non banalissimo quindi diciamo che per chi ama fare trading di breve si deve comprare il BTP Italia nel sede di collocamento e poi eventualmente attendere che si allini il rendimento agli altri BTP di pare scadenza esattamente se le condizioni rimanessero queste il primo giorno di mercato assolutamente sì un trade bellissimo sarebbe chi ha già dei BTP intorno a quella scadenza in portafoglio a quel punto lo switch viene fatto molto molto semplice quindi switch intendiamo sostituzione da quella che è la posizione dei titoli che uno ha in portafoglio con la stessa scadenza e per comprarsi questo BTP patriottico Italia per una volta fare qualcosa per l'Italia ci porta dei guadagni a meno in termini relativi esatto questo è incoraggiante e devo dire che allora se tutto questo scenario dovesse effettivamente concretizzarsi ringrazio Gianluca per questo parentesi così preziosa allora potrebbero verificarsi a livello di percezione del rischio sul mercato azionario due cose uno il rischio Europa verrebbe a ridursi noi abbiamo visto che l'Europa ha sottoperformato in modo massiccio l'America soprattutto per due motivi uno a causa della composizione degli indici che è meno esposta che sono meno esposti ai titoli tech e ai titoli pharma e sono più indici value cioè quindi più esposti a dei titoli che beneficiano di uno scenario di crescita nel lungo periodo mentre i titoli americani sono più tech e più biotech o comunque più esposti alla new new economy chiamiamola così per intenderci titoli fang quindi in questo caso la composizione della natura ma anche lo sconto a cui trattava il indici che trattavano gli indici europei a causa dei maggiori rischi politici legati alla scarsa coesione politica difficoltà di prendere decisioni una banca centrale un pochino più col braccetto corto questo ha portato il mercato ad applicare uno sconto valutativo all'Europa se questi motivi dovessero venire meno ebbene noi potremmo trovarci ad un Europa che colma parzialmente il gap valutativo con l'America quindi potremmo assistere nel corso del tempo ad un miglioramento della performance europea in termini relativi sull'America quindi questo è un trade che si potrebbe provare chi è lungo America potrebbe alleggerire un po' l'America e comprare l'Europa e quanto detto vale anche per l'Italia cioè se quanto dice Gianluca è corretto e lo sposiamo in pieno allora il rischio Italia dovrebbe effettivamente ridursi perché il fardello del debito sarebbe meno pesante perché comunque l'Italia potrebbe far conto anche su questo nuovo pacchetto per migliorare la situazione macro e allora in quel caso non aumenterebbe così tanto il debito italiano il rischio Italia sarebbe percepito come un rischio inferiore e quindi il nostro indice potrebbe recuperare quel gap di performance che effettivamente ha attenzione che però all'interno dell'indice italiano ci sono un sacco di banche e quindi questo sicuramente pesa perché le banche sono quel settore che in questa fase ancora dal punto di vista fondamentale soffre un po' soffre un po' perché fa ancora fatica a ottenere un recupero immediato della profittabilità in quanto gli spread di rendimento e dei margini di interesse per le banche sono molto molto bassi non ci sono così tanti profitti da commissioni di negoziazione e commissioni di gestione nella parte del risparmio gestito ma soprattutto le banche dovranno fronteggiare un periodo in cui non performing loans quindi le perdite su credit tenderanno ad aumentare in modo significativo vista la crisi in atto e quella non può essere scampata nel senso che molte società saranno in difficoltà avranno difficoltà a pagare i debiti e questo si tradurrà in un aumento dei non performing loans per le banche quindi settore bancario è uno degli ultimi che potrà recuperare in questo periodo di crisi noi riteniamo che potremmo assistere a dei rimbalzi tecnici ma non più di quelli per adesso e potremmo vedere un rimbalzo sostenuto solamente quando gli indicatori di sentiment economico come indici PMI effettivamente possano ritornare a salire e quindi rappresentino in termini numerici una situazione di normalità e di ritorno alla normalità chiudo questa parentesi questo intervento di oggi facendo un'osservazione su quello che accade oggi sul mercato quello che accade oggi sul mercato è sostanzialmente questo noi abbiamo gli indici stanno scendendo gli indici stanno scendendo ma semplicemente per un'attività di profit taking naturale e fisiologica quello che sta avvenendo è che mentre ieri abbiamo assistito ad una rotazione a favore di titoli ciclici e quindi ripeto banche auto oil e basic resources oggi il mercato sta vendendo quei titoli e quei settori che avevano fatto bene nella fase 2 e nella fase 1 quindi vende titoli difensivi dopo aver comprato i titoli ciclici quindi stanno semplicemente facendo un po' di spazio in portafoglio e se ieri per esempio dal 95 erano andati a 100 di investito comprando i settori che ho menzionato oggi stanno ritornando al 95 di investito però con una composizione del portafoglio più prociclica quindi il messaggio comunque che sta avvenendo dal mercato nonostante il ribasso degli indici non è un messaggio negativo gli indici stanno scendendo ma con i gestori che si stanno posizionando in modo aggressivo prociclico quindi c'è un po' di positività quindi non mi farei spaventare da questi storni anzi su questi storni su eventuali storni futuri incomincierei a comprare con un'ottica di lungo periodo laddove per lungo periodo intendo almeno 12 mesi perché effettivamente se questo pacchetto di cui parlava prima Gianluca dovesse essere implementato e se questo vaccino effettivamente potesse essere introdotto sul mercato così velocemente potremmo dire che per stavolta l'abbiamo scampato a tutti per oggi è tutto vi ringrazio di essere intervenuti di averci seguito siete sempre più numerosi a seguirci e ci ritroviamo all'appuntamento di martedì prossimo ringrazio Gianluca per questo intervento anche di oggi per questo suo aiuto professionale e spero di averti con noi al più presto anche le prossime volte grazie a te per l'invito Paolo un saluto a tutti ciao a tutti